Cari tifosi del Napoli, nelle ultime settimane il nostro amore è stato un po' scumbinato, come quello che cantava Pino Daniele in una sua bellissima canzone. Succede anche nelle storie più belle e intense di vivere momenti di crisi. Tutti quelli che, come noi, portano l'azzurro nel cuore sono reduci da dodici mesi difficilissimi. Per me sono stati i più duri della mia carriera. Passare dalla gioia incancellabile dello scudetto alla tristezza di una stagione in cui non ci riusciva niente è stato un trauma difficile da metabolizzare. Avvertivo la vostra delusione sulla mia pelle e non riuscivo con i miei compagni a cambiare l'inerzia della nostra annata. Lo ammetto, mi ha accarezzato l'idea di andare via. Sentivo la vostra insoddisfazione nei miei confronti e, come ha detto il Presidente, avevo avuto la percezione di essere stato abbandonato dalla società. Dopo il crollo che abbiamo vissuto sul campo, però, era tutto comprensibile. La vostra rabbia, la frustrazione del club, la mia confusione. Con Mario Giuffredi, il mio procuratore, ho un rapporto che va oltre la sfera professionale. Ha percepito il mio disagio e ha fatto il suo lavoro, cercare di agire a mia tutela e nel mio interesse. Ma non c'è persona più felice di lui che io sia rimasto a Napoli. Quella stagione maledetta, però, è finalmente passata. Ho ascoltato le parole del Presidente De Laurentiis e quella di mister Antonio Conte. Ho parlato con entrambi in questi giorni e il messaggio che posso trasmettervi, senza fare proclami inutili e promesse da marinaio, è molto semplice. Non vedo l'ora di ricominciare, perché mi sento uno di voi. Ci potranno essere altri momenti difficili, ma mai rinnegrerò quello che città, tifosi e società, nella persona del Presidente De Laurentiis, hanno fatto per me e la mia famiglia. Essere il capitano del terzo scudetto, il primo senza Diego, non è solo un onore, è una responsabilità. Non potevo andare via così, dopo una stagione insopportabile per il valore della maglia che indossiamo. Sono dispiaciuto per tutto quello che ci è accaduto, ma, lo ribadisco, è ormai alle spalle. Davanti a me, adesso, vedo solo l'orgoglio di tornare a vestire quei colori che amo, quella fascia e la voglia di mostrare all'Italia la vera forza del nostro Napoli e rivivere le emozioni da brividi del 2023. La nostra città merita di gioire ancora, a mafaticà, e vi assicuro che lo faremo con la faccia arrabbiata, come ha detto il mister. È ora di rialzare la testa e dobbiamo farlo tutti insieme. Ci vediamo a Castelli Sangro e poi, soprattutto, al Maradona. Vi aspetto al nostro fianco, come sempre. Giovanni. Strai candidi di YouTube, queste sono le parole pronunciate dal capitano Giovanni Di Lorenzo, per chiudere un po' definitivamente la questione che ha infastidito tutto l'ambiente e che, guardandosi intorno, ancora un po' di fastidio c'è nella memoria, nella testa di alcuni che non hanno perdonerato e non perdoneranno mai Giovanni Di Lorenzo, però è un segnale, un segnale forte. Qualcuno magari potrà anche pensare non proprio farina del sacco del solo Di Lorenzo, ma magari c'è stato un insieme di persone che hanno contribuito a creare o a rimettere un ambiente un po' turbolento in serenità. A me non interessa. A me interessano queste parole perché si può sbagliare, ci si può far prendere dalla frustrazione di una stagione che non è andata come volevano i giocatori, come voleva la società, come volevamo noi tifosi. Per l'amor del cielo, sbagliare una stagione non può mica essere delituoso, ci sta. Ma è chiaro che ci sono stati degli atteggiamenti da parte di alcuni che non sono piaciuti. Un Di Lorenzo appannato in difficoltà, mettetela un po' come vi pare, ma non è stato l'unico. Perché noi adesso ce la prendiamo con lui, perché ha manifestato la volontà di abbandonare la nave, un po' all'aschettino. Ma ce ne sono altri che sono stati nettamente più fastidiosi e che sono passati sotto silenzio. Però ha un gesto importantissimo, un segnale di pace, ma anche una dichiarazione di guerra nei confronti di tutti gli avversari. Ripartire da zero o quasi per provare a riconquistarsi una fetta importante dell'Italia del calcio è un segnale che parte e che non poteva essere altrimenti dal proprio capitano. È partito qualche settimana fa dal proprio condottiero Antonio Conte e adesso il capitano. Man mano arriveranno tutti gli altri e probabilmente seguiranno a ruota l'atteggiamento avuto da Giovanni Di Lorenzo che ha rimesso un po' le cose a posto, magari insieme a Conte, a De Laurentiis, a Giuffredi stesso. Perché questa era la volontà di alcuni che poi è diventata, speriamo, la volontà di tutti. Nel frattempo il Napoli a Di Maro, è arrivato oggi a Di Maro, primi allenamenti, primo assaggio di quel amma fatica di cui ha parlato Antonio Conte e che ha rivalito lo stesso Giovanni Di Lorenzo. Un Napoli che di fronte a quella che l'anno scorso doveva essere la New Era invece non lo è stato, ma quest'anno effettivamente di New Era possiamo parlare intanto per come il Napoli sta approcciando al mercato, come approccia le trattative, come approccia anche nei confronti della comunicazione. Tutta questa attività social che è bellissima perché ci tiene aggiornati secondo per secondo, che bello vedere i giocatori che firmano con la maglia del Napoli addosso, con uno sfondo azzurro, effettivamente siamo all'interno di una New Era. Tanto sbandierata l'anno scorso, ma poi in fin dei conti mai realizzata. Il Napoli che si presenta a Di Maro è numericamente abbondante, mancano i nazionali che hanno partecipato agli europei e alla Copa America, però ci sono tutti quei giocatori anche che non faranno parte del progetto, tutti gli entri dai prestiti, tutti quei giocatori magari su cui Conte non intende scommettere, ma che comunque valuterà in questo periodo di preparazione per poi prendere una decisione definitiva insieme a Manna, insieme a De Laurenti, sia tutto lo staff che si occupa del mercato. Bello vedere un Napoli che arriva a Di Maro praticamente ricostruito in difesa, con Rafa Marin e Spinazzola, meglio dire Spinazzola e Rafa Marin, per seguire l'ordine temporale della firma nei prossimi giorni, addirittura già domani. Buongiorno dovrebbe essere a Roma per le visite mediche e poi la firma, per poi recarsi anche lui a Di Maro, verosimilmente all'inizio della prossima settimana, in attesa di chiudere Ermoso che dovrebbe essere lì lì, Manna sta lavorando in queste ore per mettere a segno anche questo colpo, quindi quattro giocatori al terzo o quarto giorno di preparazione io non li ricordo da non so quanto, quindi un evento più unico che raro che testimonia il fatto che qualcosa sta cambiando. Ora, dove potremo arrivare questo? È inutile che ce lo cominciamo a fissare come obiettivo, vediamo giornata per giornata quello che accadrà, massimo supporto, entusiasmo e tutto quello che serve per trascinare i nostri giocatori che faranno di tutto per esaltarci durante tutto l'arco di questo campionato. C'è ancora quel dubbio legato a Osimen, che ne sarà di Vittor Osimen? Osimen andrà via, è insostenibile lo stipendio di oltre 10 milioni annui per le casse del Napoli, quindi difficilmente Osimen rimarrà, ma è anche giusto così, si era trovato un accordo, anche lo stesso Antonio Conte lo aveva accettato questa situazione legata alla partenza di Vittor Osimen, bisogna solo capire dove andrà, che sia il PSG, che sia una squadra in Premier o che poi si arrenda e decida di andare in Arabia dove probabilmente ci sono i soldi migliori per le casse del Napoli, questo lo scopriremo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, sta di fatto che Lukaku è già pronto a dire sì al Napoli perché sembra aver rifiutato qualsiasi destinazione lui aspetta il Napoli, aspetta di tornare a lavorare con Antonio Conte. Dick Varadzchelia, inutile aggiungere nulla rispetto a quello che sappiamo, anche le parole del suo agente che sono uscite negli ultimi giorni in cui lui dice che se il Napoli non partecipa in Champions League bisogna lottare per lo scudetto, ma alla fine è la stessa cosa che ha detto Antonio Conte, ritornare in lotta per lo scudetto, poi vincerlo può anche essere una questione di dettagli e non abbiamo l'obbligo di farlo, ma lottare almeno sì. E poi, non dico che chiuda la porta il procuratore di Varadzchelia, ma fa capire che è il Napoli che decide il futuro di Cviccia, perché lui dice che Varadzchelia resterà a Napoli se il presidente vuole che resti e se Varadzchelia resterà rinnoveremo. Niente che non sapevamo già, quindi la situazione è molto chiara, bisogna capire che cosa deciderà Antonio Conte di fare per tutte quelle che potrebbero essere le occasioni di mercato, sicuramente bisognerà andare a caccia di un centrocampista, Zelinsky è uscito, c'è Foloruncio su cui probabilmente si vorrà investire, però qualcosa di estremamente tecnico andrà fatto in mezzo al campo, vedremo quali saranno le idee di Manna, da capire la situazione per completare l'attacco, perché Simeone verosimilmente dovrà partire, che cosa bisognerà fare di Lindstrom, Raspadori, Pulitano, perché ne abbiamo tante, lo stesso Ngonge, sono tanti da davanti, bisogna capire su chi è necessario puntare anche dopo aver capito quale sarà il modulo di partenza di Antonio Conte, perché è chiaro, se devi partire con i tre attaccanti, Varadzchelia, Lukaku, mettiamolo già lì, c'è Pulitano, c'è Ngonge, c'è Raspadori, va capito tutto quello che potrebbe essere, anche perché c'è un chiesa che è lì e che potrebbe andare via dalla Juventus e magari potrebbe essere una richiesta di Antonio Conte, visto che è quasi a prezzo di saldo. Ma questo lo capiremo nei prossimi giorni, adesso il momento è quello di lasciare lavorare Antonio Conte in santa pace con il gruppo, cercare di rimettere a posto a livello psicologico quelli che hanno vissuto l'inferno della scorsa stagione e poi pian piano mettere le mani per costruire con estrema cura un Napoli che deve essere combattivo e che non deve arrendersi mai. La cosa che abbiamo visto l'anno scorso che ci ha distrutto psicologicamente non è tanto il fatto di essere arrivati decimi, ma il fatto di aver visto delle facce in campo che onestamente sembravano, sembravano non avere più l'attaccamento alla maglia che li aveva accompagnati nelle stagioni precedenti. Questa è una cosa che Giovanni Di Lorenzo e tutti gli altri non dovranno farci vedere mai, mai più. Stracandidi di YouTube, per questo video è tutto, ci risentiamo nei prossimi giorni per analizzare qua e là quelle che potrebbero essere le notizie legate al Napoli. Io vi ringrazio, vi saluto, vi auguro un buon proseguimento e mi raccomando, stata la buona.